Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio di Abe quello che c'è al settimo e non vorrei sbagliarmi è questo cazzo di affetto devo lasciarti qua per sempre? no cazzo ma perchè? eh vabbè devo lasciare qua ho fatto la cazzata più bella no cazzo l'unica soluzione bisogna usare la pietra perchè eh cazzo muori ah rimani lì ok ah 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 Vediamo un po' perchè non ho capito Va bene No Ok Beyond sei un coglione Beyond sei un coglione Più di me Aspetta Aspetta Credo che ci troveremo qualcosa Secondo se può andare Ah si può andare Utile No Non mi servirà più vero Ma che Intanto se mi serve di nuovo mi ucciderò di nuovo Eh vabbè E quattro minuti se ne vanno così Quattro minuti se ne vanno E un altro anno se ne va Ma non penso che mi servirà di nuovo quello lì eh Comunque cioè Non penso Ma non penso Forse si Mi serviva di nuovo Ma sicuro Ma sicuro Eh beh cazzo Ma stiamo scherzando Cosa Cosa accade Eh Se le api sono così bastarde Eh Sì anche nella realtà Ma Minchia Mi sembra di aver sentito Il mio amico Uuuu E senza di quello Non possiamo andare avanti eh Eccolo Seguimi 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 Guarda che non ti muovi eh Meno male che Anche se è morto Può di tornare in vita Ma Come Dio Dio ha creato Questo Questo Non so come chiamarlo Seguimi Uhuhuhu Ok Corriamo Non mi toccate No Avete rotti i coglioni api Andate via Andate via Api Andate via Andate via Api Ho paura di cliccar Tipico Porta è certa Proprio Che come si può andare Qui Ciao 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 Password Seguimi Uhuh Ciao Ciao Password Uhuhu Ciao 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 Password Ciao Password Ciao Ciao Password Da posto non ne ho idea di cosa potrebbe essere Ma proprio mi Di nuovo aspetta che non ho capito Benissimo so già tutto Non so come cazzo ho fatto Voglio andare su Verso l'infinito e oltre No Stavo rischiando Ah si va No No Io sto rischiando di farlo morire a questo povero cristiano Non ho fatto niente Ma proprio muori Cioè non ha senso stare tutto il giorno così a saltare e scendere e salire e scendere e salire e più Eh Ma sto già la password È così Ah ecco Adesso è cambiato il tasto Adesso è X Più me l'ha quadrato Ciao Ciao Password Ciao Ciao Password Ok Seguimi No, 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 no. tanto però guarda va a cagare tu hai bloccato calmati anche tu fammi alterare ma guardate questo scleravo ti stai non l'ho capito non lo vorrei capire perchè non capisco come non si è spaccato le caviglie cosa? era un buco sembrava sembrava concilio con l'altro vabbè niente ho fatto una cagata non va bene fare niente un secondo ma si dice bloccati come avrà fatto a capire che ero io non ci siamo capiti siamo passati anche da qua no? possiamo andare anche da lì quindi che cazzo me ne ho freddo no? o lì no se non abbiamo finito questa stanza vinci troppo lunga No, no, no. E non posso raggiungerlo con lui. Nessuno ha visto niente. Nessuno ha visto niente. Non ho capito. Nessuno ha visto niente. Nessuno ha visto niente. Sono i pipistremi. Nessuno ha visto niente. Ne ha quasi preso. Tanto perché mi salto il cazzo. Come ha fatto a sopravvivere? No! Perché non mi sono mai stato zitto in tutta la mia vita? Nessuno ha visto niente. Quanto più semplice. Dovevo toccare quel campanello che c'era subito. Ecco qua. Ci sono le missioni. Mamma mia dei paramiti. Non ci credo. Ragazzi lo scopriamo nel prossimo episodio. Le porte dei paramiti. Quindi per questo video è tutto. Un saluto da Bayon Community. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.